Ragazzi oggi è una giornata nuvolosa ma vi porto praticamente a vedere la mostra degli impressionisti bellissima mostra a Torino al mastio della cittadella fino al 4 giugno eccolo qua il mastio è quello che rimane di una fortezza sabauda a Torino bellissimo seguitemi Grazie a tutti Mette già il colore direttamente sul supporto Vi chiedo di osservare alcuni elementi e vi faccio avvicinare Centralmente nella scena potete vedere la presenza di sabauda Uno è di bianco vestito perché la luce lo colpisce direttamente e se lo guardate attentamente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti